Ciao a tutti ragazzi, sono Andufucoci al 99 e abbiamo venuto in questo nuovo video Allora, innanzitutto vi chiedo scusa per la postazione di oggi Però questo sarà un video davvero molto breve, in quanto lo sto registrando col mio iPod Perché? Allora, non registro video da un po' di tempo Per il semplice motivo che ho cambiato cellulare Ma con questo nuovo cellulare, comunque un cellulare molto più, fra virgolette, avanzato rispetto al precedente Con cui comunque riuscivo a caricare video Non mi fa caricare video Perché mi dice, fai l'impasto di caricamento, ma alla fine non carica Avrò registrato 200 video, ma alla fine non mi mi carica Mi dispiace tantissimo Ho cercato di rimediare di prendere un'altra scheda e di metterla di nuovo nel mio vecchio telefono Per registrare in questo modo video Quindi, niente, questo era proprio un video breve breve Mi dispiace per la postazione Volevo anche farvi gli auguri di Bonferragosto, tra l'altro E inoltre, oltre che farvi gli auguri di Bonferragosto Volevo anche dirvi che mi dispiace tantissimo di non poter continuare a fare video Però, purtroppo, non ho avuto l'opportunità Allora, adesso, però, in questi ultimi giorni non ho avuto l'opportunità Ma adesso cercherò di, appunto, prendere un'altra scheda Comprere un'altra scheda e metterla nel mio telefono A me che continuerà a fare video Perché assolutamente non ci rinuncio il mio canale Perciò non vi preoccupate I video continueranno Solo che chiaramente saranno un po' di meno rispetto ai precedenti O perlomeno li caricherò a intervalli non molto regolari Rispetto a quelli precedenti Perché se prima li caricavo, che ne so, caricavo uno una settimana Poi una settimana dopo caricavo un altro Comunque sia li caricavo abbastanza regolarmente Adesso saranno un pochino discontinui Nel senso può darsi che uno lo carico nel giro di una settimana Un altro lo carico nel giro di un mese, due o tre mesi addirittura Perché sappiamo che Captur comunque è molto molto lento Perché prima di comprare un'altra scheda Io tenterò di fare video con Captur Se mi trovo bene con Captur, mi intero di comprare un'altra scheda Se non mi trovo bene con Captur, allora comprerò un'altra scheda Ok, questo era tutto un pochino confuso Mi dispiace, però comunque volevo farvi gli auguri di buon ferragosto E non vi preoccupate perché i video continueranno Solo che ci vorrà adesso un pochino di tempo per riassessere il fatto Questo era il video, spero che veniva caricato E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi